Ouch! Avete presente quando vi tagliate con un pezzetto di carta un taglio fatto nel polpastrello oppure nella piega tra i polpastrelli? Fa un male indicibile soprattutto se si considera il fatto che poi il taglio è veramente minuscolo e se ci pensate non c'è nessun'altra parte del corpo dove fare un taglio così minimo così proprio in quasi invisibile però da un tale senso di dolore che poi non passa nemmeno subito spesso quando ci facciamo un taglio un graffio fa un po male poi però dopo un'ora ci siamo già dimenticati di averlo invece il taglio fatto con la carta dura un sacco di tempo a questo proposito mi ricordo che da bambina avevo visto un film un film ambientato durante la seconda guerra mondiale dove ai tedeschi era venuto in mente di rapire un ufficiale inglese o forse era americano comunque uno degli alleati metterlo in una stanza e fargli credere che la guerra era finita che i tedeschi avevano vinto e che volevano solo farsi raccontare decine di anni dopo la fine della guerra quello come erano andati fatti in effetti invece la guerra era ancora in corso erano passati solo pochi giorni forse poche ore da quando l'avevano catturato l'avevano addormentato eccetera comunque e lui mettono su una vera e propria pantomima gli fanno credere che la guerra è finita tutto quanto è passato tanto tempo lui è un po scioccato non ci crede all'inizio proprio e alla fine comincia a crederci perché ci sono un sacco di attori che recitano però cosa lo salva lo salva che mentre prende un pizzico di sale a tavola ai gli pizzica il dito e si ricorda che si rende conto che quel taglio di con la carta che si era fatto si ricordava di essersi fatto poche ore prima c'era ancora quindi era impossibile che fossero passati dei decenni e quindi poi vincono come sempre gli alleati che poi non lo capisco perché non ho capito perché i tedeschi erano gli alleati degli italiani però nei film sono sempre cattivi comunque vabbè allora perché vi sto parlando dei tagli di carta perché ho scoperto il motivo per cui fanno tanto male fanno tanto male perché le dita i polpastrelli sono la nostra parte più sensibile del corpo quindi sono strapieni di terminazione nervose e quando facciamo un tagliettino di carta il taglio lede le terminazioni nervose ma non abbastanza da non farci sentire il dolore quindi abbiamo ancora abbastanza sensibilità da avvertire il dolore e lo avvertiamo tutto 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 e poi ci sono tantissime di queste terminazioni per cui impiega un sacco di tempo a ripararsi perché appunto il taglio non è abbastanza profondo e ce la fa sentire tutto quindi la prossima volta che vi fate un taglietto con un pezzetto di carta pensate a tutte queste cose che vi ho raccontato e vabbè non vi farà sentire meglio però almeno vi distoglierò un po' l'attenzione no quindi